2, 1, via! Buonasera, intervistiamo il Milico Recopa e gli chiediamo riguardo alla pastilla di sabato, quali sono le sue previsioni? Riguardo al risultato e ai consegnati. Sabato è imperativo vincere. Imperativo? È imperativo vincere. Sabato 2-0, l'Atletico Mignoli con gol del sottoscritto e una sorpresa. Segnerà un difensore. Segnerà un difensore. Le previsioni di Maurizio Mosca, mi sembra. Il bicchiere che parla. Sarà il vino, effetto vino? Effetto di vino. Il vino merita. A domenica, a sabato.